Anticipazioni Tempesta d'Amore, trama puntate, martedì 18 gennaio 2022. Ariane rallenta i piani di Christophe. Mentre Werner è sempre più preoccupato, Christophe cerca di essere sicuro che il suo intrigo funzionerà. Ha già una soluzione in mente per accelerare il declino della sua nemica. Alphonse è infastidito dal fatto che Hildegard presti così tanta attenzione all'assistente linguistico e sfoga tutta la sua frustrazione con Max. Il ragazzo offre una geniale soluzione al Somicler per allegare la sua sofferenza. Dopo aver smascherato la bugia di Michael, Rosalie gli chiede un romantico pegno d'amore. Quando il dottore racconta a Robert cosa le ha chiesto la sua amata, l'uomo gli consiglia di organizzare subito una sorpresa. E così alla fine Michael organizza un qualcosa di molto speciale e originale per la Angel. Selina è disperata perché non vuole più mentire a Christophe su Lars, che è in realtà Cornelius. Grazie a tutti! Grazie a tutti!